Anche Eva Kaidi, l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, in carcere nell'ambito dello scandalo di corruzione che ha colpito l'Eurocamera, verrà rilasciata, come conferma la Procura federale belga. Dopo oltre quattro mesi di custodia cautelare in carcere, la deputata greca tornerà a casa e sarà sottoposta a regime di sorveglianza elettronica. Kaidi, arrestata il 9 dicembre 2022, era l'unica dei protagonisti della vicenda ancora soggetta a detenzione. Pier Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato considerato figura chiave della rete corruttiva che aveva firmato con la giustizia belga un accordo di pentimento e l'attuale parlamentare belga Marc Tarabella, sono gli ultimi ad aver ricevuto la possibilità di uscire dal carcere e lo faranno nei prossimi giorni. Anche il compagno di Kaidi, Francesco Giorgi, era stato rilasciato a febbraio, mentre rimane agli arresti domiciliari in Italia in attesa di estradizione l'eurodeputato del Partito Democratico, Andrea Cozzolino. Come gli altri, Kaidi è accusata di corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale che prevedeva il pagamento di ingenti somme di denaro da Qatar e Marocco per influenzare i processi politici comunitari.